. David, il figlio di Madonna canta holiday, il video è virale. . David Banda, giovane promessa dodicenne del Benfica, non era ancora nato quando, nel 1983, sua madre Madonna era solo una ragazza americana che tentava di sfondare nel mondo della musica con il brano dance holiday. . Poi quella ragazza ce l'ha fatta ed è diventata per tutti la regina del pop. Il carpool karaoke di David e Madonna. Ha fatto il giro del mondo il video in cui Madonna e il figlio David, adottato nel 2011 in Malawi, cantano in macchina il successo della cantante. . Nel video, pubblicato dalla stessa Madonna sul suo Instagram, si vede il piccolo cantare e ballare in macchina, mentre Madonna è alla guida. . Il pezzo in sottofondo è proprio Oli Dai e Madonna scrive nella didascalia, Dai, David! È il tuo compleanno! Dobbiamo festeggiare! E vediamo il ragazzo che si lancia in un allegro carpool karaoke, cantando e ballando al ritmo della canzone di sua madre Madonna. . . Nello stesso giorno, la cantante aveva pubblicato una foto del periodo dell'adozione, in cui si vede lei stessa che porta sulle spalle un piccolissimo David. . . Nella didascalia, Madonna scrive, Buon compleanno al mio piccolo bambino! David Banda! Vorrei ancora portarti in braccio in stile Bapu! La cantante è legatissima al piccolo David, tanto da essersi trasferita in Portogallo per lui. . David Banda, infatti, è stato tesserato dal Benfica lo scorso gennaio, dopo aver superato diversi provini. . E quindi Madonna, che vuole sempre il meglio per i suoi figli, avendo perso sua madre quando aveva solo cinque anni, ha deciso di seguire la promessa del calcio portoghese e si è trasferita in una megavilla di 3300 metri quadrati nella zona di Sintra. . . Gli altri figli della cantante sono Lourdes Maria, nata nel 1996 dalla relazione con il suo personale trainer Carlos Leon, Rocco John, nato nel 2000 dal matrimonio con il regista Guirit Chieh. . 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